Qual è stata l'ultima profezia del Cardinal Martini che, come vi dicevo prima, si è spento il 31 agosto del 2012? Ci risponde ancora una volta Marco Garzonio. Attraverso questo ultimo magistero, che è un magistero drammatico, perché non solo c'è la malattia che avanza, ma questa malattia lo va a colpire su che cosa? Sulla voce. A poco a poco riduce la possibilità, arriva quasi alla fonia. Ma come? L'uomo della parola, l'uomo della comunicazione, e lo accetta. Anzi, fa una cosa stupenda. Mi interrogo, mi chiedo che cosa il Signore vuole dirmi con questa menomazione che avanza. Il senso della parola è una cosa stupenda.